Con Luca D'Ambra, Presidente di Federal Berghie, parliamo di turismo, ma soprattutto del turismo che sta riprendendo. Ischia dà segnali positivi. Sicuramente c'è da dire che siamo contenti di ripartire. È una ripartenza che serve sicuramente anche a carburare, perché abbiamo davanti a noi un mese che presenta in media il 30% di occupancy, a 25-30% e quindi sicuramente un fatturato che nel migliore dei casi coprirà le spese. Chiaramente luglio-agosto con un turismo di prossimità possiamo avere una taranzia di arrivi. La cosa che speriamo è che comunque un pubblico internazionale si possa affacciare per settembre-ottobre e quindi allungare la stagione, per noi fondamentale, non solo per il comparto alberghiero, ma anche per tutti i collaboratori e anche tutte le altre categorie che vivono di turismo. È un turismo che riparte perché c'è voglia di ripartire o per i prezzi che vediamo particolarmente incentivanti? È un'ottima domanda quella che mi fai. Sicuramente abbiamo rilevato comunque alberghi che hanno una maggiore occupancy, ma proprio perché hanno fatto un cosiddetto dumping dei prezzi. Questo noi non vorremmo che accadesse, perché sappiamo anche che le destinazioni di punta della Campania, che stanno vicino a noi, hanno un occupancy molto maggiore della nostra e a prezzi molto più interessanti. E questo logicamente è un po' una piaga che continuiamo a vivere sull'isola, sempre perché appunto non riusciamo a condividere dei numeri e se le riuscissimo a fare, almeno noi albergatori, anche per capire quali sono le tendenze, potremmo sicuramente approfittarne un po' tutti quanti. Certamente Ischia ha alberghi di qualità e strutture di qualità. Manca probabilmente, come dicevi tu, una sinergia per fare una buona impresa collettiva. Cosa bisogna fare? Guarda, è una battaglia che stiamo facendo anche da molto tempo con Federalberghi e anche negli ultimi tempi attraverso la mia persona. C'è la volontà da parte di sempre più albergatori, specialmente soci, di cominciare a condividere dei numeri e sono dei dati che paradossalmente già si sanno, sono dati che esistono. Quindi il problema è che purtroppo abbiamo un'imprenditoria media che non capisce che questa condivisione effettivamente può portare un vantaggio a tutti. Quindi in questo momento è come se questi dati li dessimo a delle entità un po' più grandi che sono online, che ci arrivano attraverso i nostri terminali, comunque all'interno delle nostre strutture e che purtroppo stanno sfruttando solo loro. Quello che dobbiamo far capire all'albergatore medio, che deve andare avanti logicamente perché noi ci teniamo che la realtà di offerta turistica isolana si mantenga da famiglie note all'isola che comunque hanno manifestato una grande produttività negli ultimi anni. Però c'è l'esigenza appunto di rinnovarsi. Rinnovare vuol dire andare incontro a queste nuove tecnologie che noi abbiamo a disposizione, condividere i dati e fare in modo che in questo modo la offerta mantenga la giusta qualità. Chiaramente la domanda che mi faresti al seguito Enrico sarebbe quella ma abbiamo le strutture che possono offrire la qualità? Questo è vero, ci sono delle lacune da questo punto di vista. Abbiamo effettivamente un gran numero di strutture che hanno bisogno di essere rinnovate. Questo però è un discorso che deve essere prodotto in sinergia con le istituzioni e col mondo creditizio.